Per noi dell'Enit è un'esperienza bellissima, abbiamo ingaggiato questi giornalisti, questi tour operetto stranieri attraverso le nostre 30 sedi all'estero e li stiamo facendo fare un'esperienza bellissima per le strade dell'Italia, guardando l'Italia in maniera lenta che è il modo per apprezzarla di meglio, i territori sono diversi, i paesaggi e racconteranno anche quello che hanno vissuto insieme. La nostra squadra è una squadra capitanata da Massimiliano Lelli, un professionista e come sono professionisti del turismo le persone che noi portiamo in giro, c'è un'accoglienza straordinaria nelle città dove arriviamo, gli amministratori locali, gli operatori ci vengono a trovare, ci offrono le serate per poter raccontare a questi giornalisti le cose che hanno sul territorio. La nostra squadra è un'accoglienza